Ciao a tutti, bentornati sul canale della Trafol Academy, siamo di nuovo in compagnia di Chiara Dissegna, la nostra veterinaria di fiducia. Ciao Chiara! Ciao Davide, ciao! Ciao Chiara! Allora, oggi andremo a riprendere l'argomento dell'alimentazione del cane da lavoro, in particolare parleremo di cibo secco, quindi quali tipologie abbiamo, come leggere un'etichetta, dosi, non dosi, come comportarsi, e argomento interessantissimo perché la salute del cane, l'alimentazione del cane sicuramente poi aiuta nel risultato oltre che nel benessere dell'animale. Chiara, voglio iniziare a introdurre l'argomento. Sì, allora, abbiamo pensato di parlare dell'alimentazione commerciale perché non è così facile scegliere l'alimento più corretto per il proprio cane, perché se entrate in un negozio di animali vi troverete con degli scaffali pieni di colori, di nomi, di disegni di animali, di ogni genere. E quindi saper leggere quello che c'è scritto dietro e capire quindi cosa stiamo andando a scegliere è davvero importante. Volevo iniziare con una prima carrellata proprio facilissima su che tipi di cibi commerciali esistono in commercio, perché sappiamo che possiamo trovare vari tipi, tendenzialmente abbiamo un cibo secco, cioè la crocchetta, un semi umido o un umido. Cos'è la differenza tra questi tre cibi? È il contenuto di umidità che nella crocchetta deve essere inferiore al 14%. Nel semi umido che magari conoscete perché in questa categoria fa parte anche tutti i premietti, quelli morbidini, gli snack, sono semi umidi oppure ci sono delle crocchette apposta che si chiamano semi umidi e abbiamo un'umidità fra il 14 e il 60% invece la scatoletta classica di lattina, la lattina siamo sopra il 60% di umidità. Oggi ci parliamo particolarmente dei croccantini che è sicuramente il più diffuso fra questi tre come utilizzo e si può eventualmente fare un mix fra secco e umido. Allora andiamo avanti Davide, pensavo di iniziare a capire come si può leggere un cartellino, cioè come capire cosa c'è scritto dietro nel sacco delle crocchette. Cosa dici? Mi sembra un ottimo modo, poi andiamo anche a vedere quale scegliere, però direi che principalmente la scelta parta da lì, a prescindere dal colore della busta. Assolutamente sì, dovete sempre girare questo bel pacco di crocchette e imparare a leggere quello che c'è scritto. Voi troverete che ci sono due parti nell'etichetta di un mangime, c'è una lista ingredienti e sotto c'è una tabella con i valori analitici riportati. Queste due cose vanno sempre lette insieme, perché una sola non ci dà le indicazioni precise sull'alimento. Partiamo dalla lista ingredienti. Allora, dovete sapere che gli ingredienti sono scritti dal più rappresentato al meno rappresentato quando entrano nel macchinario per fare il croccantino. Quindi, se avremo, per dire, carne al primo posto, sappiamo che quella è quella maggiormente presente in quella crocchetta in quel momento. Allora, questa lista degli ingredienti può essere scritta in due modi. Possiamo avere la cosiddetta formula aperta o la formula chiusa, che ci rende un pochino più difficile la lettura di questa lista degli ingredienti. Cosa vuol dire? Se io ho una formula chiusa, il produttore deve scrivere esattamente le percentuali di ogni tipo specifico di alimento presente. Mi spiego, quindi se avremo il pollo sarà un 25% di pollo, riso 15%, verdure 5%. Nella formula aperta, invece, può utilizzare la categoria, quindi carne derivati, verdure, cereali, senza indicare con esattezza cosa è stato inserito nella formula. Ma ci sono delle cose che ce la rendono ancora più difficile, perché ci sono le cosiddette frammentazioni. Ovvero, se io ho un alimento che ha il 25% di pollo, per dire, e ha un 30% di cereali, in una formula aperta, quindi dove posso utilizzare le macro categorie, io per forza avrò i cereali come primo ingrediente, perché abbiamo detto essere un 30% e poi il pollo che viene dopo. Nella formula chiusa, il produttore può frammentare quei cereali, quindi chiamare, mettere, che ne so, 15% di riso e 15% di mais. Cosa succede? Che quindi il primo ingrediente che voi leggerete è sempre il pollo e poi verranno i cereali. Ma in realtà, se fosse stata una formula chiusa, una formula aperta, avreste visto che il primo ingrediente è il cereale. Non so se mi sono spiegata, ma il concetto è, leggete anche le frammentazioni, cioè non fermatevi solo per dire, ah, ho la carne come primo ingrediente e quindi questa crocchetta è fantastica. No, cercate sempre i pezzettini che vengono dopo e sommateli, perché i produttori si sono inventati dei modi carini per far sembrare più appetibile un cibo che magari non lo è. Ok, questo è il primo passaggio da andare ad analizzare, quindi stiamo già dicendo che in una buona crocchetta la prevalenza deve essere di proteina e di origine animale. Assolutamente sì, deve essere il primo ingrediente. La giusta percentuale che dobbiamo andare a cercare in una buona crocchetta è? Eh, questo lo vedete dopo, perché qui abbiamo fatto solo la lista degli ingredienti, quindi con solo i nomi dei prodotti. Poi sotto c'è il valore analitici e quindi voi vedrete proteine, grassi, fibre, ceneri. E lì c'è l'indicatore della crocchetta, quindi partiamo dalle proteine per dire. Allora, la proteina... Però scusa, Chiara, in un video precedente abbiamo parlato anche di controllare che poi le proteine fossero di origine animale, perché potrebbero esserci anche dei legumi. Quindi ancora a monte, prima di andare a vedere quella tabellina lì dove c'è scritto proteine, che a quel punto potrebbero essere una sommatoria, chiedevo la percentuale di carne buona all'interno di una crocchetta. Ah, la percentuale degli ingredienti di carne. Ma sai, lì quello dipende, perché dipende da cosa hanno inserito dopo. Quindi va sempre controllato il valore analitico più che la percentuale di carne, perché poi dipende se è essiccata o fresca. A quel punto lì cambiano tanto le proporzioni. Quindi devi andare a vedere quello dopo. Ma è giusto quello che hai detto, sei stato attentissimo. Perché infatti tu leggi la lista di ingredienti e già inizi a vedere se ci sono, per dire, piselli, proteine della soia, insomma tutte queste cose qua. Se non ci sono, già hai un'idea che stiamo parlando solo di proteine animali. Quando vai nei valori analitici sotto, troverai proteine. Le proteine, questo qui è un valore, però purtroppo non ci dà nessuna indicazione sul valore biologico. È l'azoto presente, è un modo per calcolare l'azoto presente. Comunque una crocchetta con una buona percentuale siamo almeno sopra il 22-24% di proteine scritte. Calcolate che il minimo legale è il 18, quindi più su si va meglio è. Se stiamo parlando di cuccioli siamo ancora sopra, siamo già al 27-30%. Quindi, riassumendo, almeno 22-24% di proteina e controllate sempre che siano di origine animale e non vegetale dalla lista degli ingredienti. Nel cartellino, quindi, troverete, oltre alle proteine, voi vedrete i grassi, le fibre e le ceneri. Cosa vi interessa per voi che avete un cane da lavoro? Guardate anche i grassi. I grassi sono fondamentali in un cane che lavora. Devono essere sempre presenti e devono essere tendenzialmente di buona qualità. Calcolate che più o meno anche qui le crocchette variano buone, fra un 10 e un 20% di grassi presenti. Ovviamente più grasso c'è, più calorico sarà l'alimento, questo va da sé. Però non spaventatevi se le percentuali sono anche alte. Calcolate che anche qui si va da un minimo legale del 5%. Sotto il 5% non sono vendibili. L'altro parametro importante per valutare la qualità di una crocchetta sono le ceneri. Che cosa sono le ceneri? Sostanzialmente è quello che rimane dell'alimento dopo che viene messo in stufa. Quindi minerali, sostanzialmente minerali. Perché sono utili? Perché ci danno un'indicazione del valore delle proteine, del valore biologico delle proteine. Come potete fare? Voi dividete la percentuale delle proteine che voi trovate per la percentuale delle ceneri. Vi verrà un risultato che tendenzialmente va da 1 a 5. Più alto è questo valore, quindi se siamo intorno al 4 o al 5, stiamo parlando di un buon alimento commerciale. Se siamo 2 o 3 più basso non è di grandissima qualità. Fate la prova con il vostro sacchetto che avete in casa, fate questo semplicissimo conto e già questa cosa qua vi dà un'idea di che cibo state dando al vostro cane. Ottimo, non abbiamo più scuse quindi. Questa è l'etichetta, quindi questo ci dà il valore, un valore nel senso la bontà di quello che stiamo dando al nostro cane. Però oltre a questo ci sono anche tutta un'altra serie di ammenicoli in cui ci dobbiamo giostrare nella scelta. Appunto sempre tralasciando il colore della busta abbiamo il tipo di proteina, possiamo scegliere il salmone, il polo, il manzo. E poi l'altra grande cosa è la questione della crocchetta pressata a freddo, che volevo chiederti la differenza tra una crocchetta e la crocchetta pressata a freddo. Certo, ma allora sul fatto di come scegliere la proteina, allora se l'animale non ha problemi, è sano, sta bene, il mio consiglio è sempre quello di non scegliere alimenti monoproteici, quindi solo un esclusivo tipo di proteina, ma prendere quelli che hanno più proteine animali e mescolarle anche. Magari finito un sacco si può mescolare con un altro gusto, cioè abituare il cane a mangiare più cose. Chiaramente se è in salute, non ha problemi ed è sano. Cioè intendi mescolare le proteine mantenendo la marca? Sì, anche, sì, per comodità assolutamente sì, tanto ogni marca fa un sacco di gusti, quindi finito uno si inserisce l'altro e si va, oppure semplicemente non comprare prodotti monoproteici, che quindi ci sono dentro già più proteine naturalmente. Quello che dicevi del pressato a freddo, che sta un po' meno andando di moda, ma è andato tanto di moda fino a poco tempo fa, in realtà non è che sia l'invenzione del secolo, perché utilizzano, invece che fare le crocchette, che sono degli estrusi, quindi utilizzano l'estrusore, per fare le pressate a freddo, utilizzano la pellettatrice, che è la stessa che viene utilizzata per fare, per dire, il mangime per maiali, per polli, insomma, quindi è una metodica già utilizzata. A freddo perché effettivamente non raggiunge le temperature dell'estrusore, che sono molto alte, ma c'è un grandissimo, ma per fare le pressate a freddo, vengono inseriti prodotti, materie prime che hanno già subito un trattamento termico, ovvero le farine di carne, quindi vengono già, la materia prima è già stata trattata, ed è quello poi lo sbalzo più grande che le materie prime utilizzano. Perciò quando sentite questo pressato a freddo, sì, è vero, perché non c'è poi un ulteriore utilizzo del calore, però la materia prima è già stata lavorata e ha già avuto il passaggio col calore. In qualche modo bisogna togliere l'umidità. Eh sì, certo, esatto. Potrebbero essere più appetibili alle volte, quello sì, ci sono dei casi in cui sono un pochino più appetibili, però non vuol dire che è un prodotto migliore di una crocchetta, quindi tranquilli, se i vostri cani mangiano crocchette e non hanno mai assaggiato il pressato a freddo, non è successo assolutamente niente. E invece, quando stavamo preparando la puntata, una cosa interessante che mi portavi, sempre per districarci nel grande modo delle crocchette, mi parlavi un po' dei claim che vengono fatti, quali sono più sensati, quali meno sensati, quali... Eh sì, perché anche qui, diciamo che il marketing ha lavorato tanto e lavora tanto, e quindi si spinge su delle sensazioni, dei ricordi, tipo human grade, ancestrale, organici, ecco, tutte queste definizioni non hanno assolutamente senso, cioè non vuol dire niente, quindi sono proprio cose riportate sul sacchetto, ma per invogliare ad acquistare, in realtà non hanno un motivo di esistere, ecco. E invece dovete sapere che se in questi... nel negozio vedete un prodotto che sulla copertina per dire ha un simpatico melograno disegnato, quel melograno deve essere riportato, cioè non possono disegnare cose che non ci sono e quindi quello deve essere riportato in etichetta. Altri claim importanti che potete leggere sul pacco dei croccantini, ad esempio al gusto di, all'aroma di, a base di... sono tutte cose importanti perché c'è una regolamentazione su queste parole, non è che sono scritte proprio a casaccio, però ad esempio una cosa che fa impressione è che quando c'è scritto al gusto di, lì dentro potrebbe non esserci assolutamente l'ingrediente, ma solo l'aroma, quindi al gusto pollo, ma il pollo potrebbe anche non esserci mai passato in quelle crocchette. E poi invece si alza, che ne so, per dire c'è aromatizzato al, può esserci fino al 4% quell'ingrediente, con aggiunta di, è dal 4 al 14 e poi si va avanti a base di ricco di, fino ad arrivare a tutto, e lì è per forza tutto pollo, ad esempio, sono degli umidi di solito speciali, dove lì per forza è solo pollo, oltre alle integrazioni minerali vitaminiche. Ok, grazie Chiara. Direi che per questo video abbiamo, ci hai insegnato correttamente a leggere un'etichetta, in maniera anche chiara, rapida e puntuale, a scegliere l'alimento, lo secco migliore per il nostro cane. Poi magari faremo altre, altre puntate, sulle altri tipi di alimentazioni, quindi diciamo, semi umido, umido, però per ora ci hai dato, una bellissima carrellata, se l'avete guardato questo video, in fretta, adesso andate, andate, prendete carta e penna, lo riguardate all'inizio, prendete appunti, così la prossima volta che andate, nel negozio, a comprare le croquette, avrete detto tutti gli appunti, preziosissimi di Chiara. Chiara, grazie mille di essere stata qui con noi, ci vediamo presto, sempre qui sulla Traffola Cam, che ormai sei nostra ospite fissa, ciao e grazie ancora. Ciao Davide, grazie, ciao.